Dopo l'inatteso scivolone nella trasferta di Torino di Sangro, il Porto vuole archiviare al più presto lo spiacevole episodio, anche se nell'anticipo del girone B di promozione l'avversario che arriva al campo ex Gesuiti è tutt'altro che arrendevole. Si tratta infatti della Folgore San Buceto che da sempre rappresenta un osso duro per chiunque. La gara che non sarà sicuramente apprezzata dagli amanti del bel gioco si dimostra equilibrata sin dalle battute iniziali. Al quarto la Folgore si porta in avanti con Alessandro Di Paolo che scadella al centro dove la corrente Regiacorte non riesce nella stoccata decisiva. Al quindicesimo Castellano prova ad impensierire Segalotti con un insidioso calcio piazzato che il portiere Biancorosso riesce a disinnescare con qualche difficoltà. Poco dopo cent'anni fallisce una ghiotta opportunità tirando troppo frettolosamente e non approfittando adeguatamente di uno svarione difensivo della squadra avversaria. Al trentanovesimo Castellano tenta ancora la carta del tiro da fermo ma Segalotti si oppone senza patemi. Pochi istanti dopo il capitano pescarese centra il legno orizzontale con una gran bordata dalla distanza. Al quarantatresimo è la Folgore a fallire il bersaglio con Sileno servito dall'ottimo Alessandro Di Paolo che sfugge alla trappola del fuorigioco ma davanti a De Rodiani spedisce clamorosamente a lato. Nei minuti finali della prima frazione Evaira a fallire la rete in un paio di occasioni. Dapprima con un tiro di rapina dalla breve distanza e successivamente con una mezza rovesciata approfittando di una carambola in area biancorossa. Si va quindi al riposo sul nulla di fatto. La ripresa riserverà poche emozioni anche se tra queste ci sarà quella che deciderà le sorti della contesa. Al quindicesimo registriamo intanto la seconda traversa centrata dal porto. Stavolta è Giannattasio a colpire il legno con una gran staffilata sottoporta sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Al ventitresimo arriva il gol degli ospiti che sblocca il risultato. La rete porta la firma di Alessandro Di Paolo, di gran lunga il migliore in campo, che brucia sul tempo Iacone in Bastaro e fulmina Segalotti con un gran diagonale dalla media distanza. L'undici di mister Di Zio, vinto anche dal nervosismo, non riesce più ad imbastire trame di gioco all'altezza della situazione ed è invece la Folgore a sfiorare il raddoppio con Sileno, in giornata no, che butta alle ortiche un delizioso invito del solito Di Paolo, sparando su Segalotti in maniera piuttosto frettolosa. Nonostante il gol fallito, la Folgore porta a casa tre punti davvero pesanti che serviranno molto in una stagione lunga e difficile come questa. Per il Porto, che paga la poca incisività in chiave offensiva, serve qualche aggiustamento, ma siamo sicuri che la squadra del presidente Paluzzi riuscirà a rialzare la testa e disputare un campionato di alta classifica. Mimo Di Michele, tecnico della Folgore San Buceto, oggi tre punti d'oro sul terreno del Porto. Effettivamente venire a vincere qui non è facile, anche perché loro hanno una buona squadra organizzata, però sono contentissimo perché la mia squadra ha fatto una buona gara. Degli avversari cosa può dirci? Gli avversari, io li conosco abbastanza bene, sono tutti ottimi giocatori per questa categoria, anzi addirittura qualche altro giocatore è anche di categoria superiore. Castellano, Vaira, Centanni, tutti buoni giocatori. La Folgore San Buceto che negli ultimi anni ha stupito un po' gli addetti ai lavori centrando in aspettati play-off, quest'anno vuole tentare ancora una volta di cogliere questo obiettivo prestigioso? Ma effettivamente noi abbiamo una buona squadra, è chiaro che se prima ha avuto questi risultati, anche perché ci hanno dietro una buona società, si lavora abbastanza bene, quindi un ambiente molto tranquillo, non è che noi ci prefiggiamo di arrivare a fare i play-off, però una squadra per me è abbastanza buona per la categoria. Un campionato, lo dicevamo anche prima della gara, piuttosto equilibrato, nonostante l'aumento di formazioni, ben 18, non c'è una squadra che può recitare il ruolo di battistrada, una squadra ben definita, così come non c'è la cenerentola predestinata a retrocedere? Secondo me qualche squadra è attrezzata per fare un campionato di primissimo ordine, però devo dire che le altre sono tutte abbastanza quadrate come squadra per la promozione, insomma non è facile, penso proprio che siano tutte sullo stesso livello le squadre, accetto 2-3 più o meno tutte sullo stesso livello le altre. Mister Dizio, dopo un avvio piuttosto esaltante del Porto con due vittorie in altrettante gare, adesso sembra iniziata una parabola discendente che ovviamente vi augurate di far terminare al più presto? Sì, ci auguriamo già da mercoledì, siamo ritornati nella nostra realtà che è quella di fare un campionato per salvarci, tirarci fuori il più presto possibile dai bassi fondi e poi se viene qualcosa di meglio cerchiamo di prenderlo, però questa è la nostra realtà, le due partite iniziali forse hanno un po' illuse e purtroppo le partite sono tutte equilibrate e sono risolte da episodi, noi queste due domeniche che ci sono venute contro, questi episodi sono stati contro e abbiamo perso, purtroppo il calcio è questo, cercheremo di rifarci già da mercoledì nel turno infrasettimanale. A che cosa è dovuto secondo lei questo calo? Ma no, ma il primo tempo siamo riusciti a giocare anche discretamente, abbiamo creato anche qualche occasione da gol e tutto, il secondo tempo non si gioca più a calcio, loro si buttavano di continuo per terra, ogni volta cinque minuti abbiamo perso il filo del gioco, poi hanno trovato anche il gol e là proprio è finita proprio, ci siamo anche innervositi, abbiamo cominciato a buttare la palla e non è stata più una partita. Si è come la sensazione che manchi qualcosa lì in avanti? Si, questo è vero perché concretizziamo poco, facciamo fatica a realizzare, questo è un dato di fatto, cercheremo di risolverlo, adesso vediamo un po' anche con la società e poi troveremo la soluzione. Per chiudere due battute sul vostro avversario odierno, la Folgore San Buceto? Io lo sapevo, conosco anche l'allenatore Mimmo, quindi è una squadra dura da incontrare, rognosa e non per questo negli ultimi due anni è arrivata sempre ai play-off, quindi questo la dice lunga. Sapevo che avevano un attaccante alto e un altro rapido e ci potevano mettere in difficoltà, hanno chiuso bene tutti i varchi e purtroppo se questi non gli fai prima gol rischi di perdere la partita. Grazie a tutti.